Beh, io dicevo Italia-Brasile, stasera abbiamo, è un'occasione unica in sala, un ospite eccezionale, brasiliano autentico, Cosè Altafini! E mi sembrava giusto chiamare qui Cosè che è stato un grande campione del calcio, ha giocato tanti anni, grazie Cosè, vorrei metterti alla prova con questo pappagallo, siete brasiliani entrambi, io penso che forse tu riuscirai a fargli dire Brasil, Cosè mi ha detto noi pronunciamo male, come si dice? Si dice Brasil, però... Ah, come si dice? Brasil. Brasil, ecco. Però io ho sentito il pappagallo prima, diceva sempre Portobello. È rimasto sul vecchio fuso orario, ormai lo so che dice Portobello, lo dice ormai a tutti, l'importante è fargli dire Cosè in 30 secondi, noi diciamo Brasil, tu dici Brasil, prego, Cosè. Saremo felicissimi, attenzione, puoi cominciare Cosè, attenzione, 30 secondi, via! Brasil, 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 non è abituato, Brasil, 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 non riesce a far gol nemmeno al taffino. Brasil. Tempo, purtroppo, purtroppo, non ce l'abbiamo fatta.